Avanti, portate qui il tavolo. Allora coraggio, cosa aspetti, moscerino? Vieni a sederti. Abbraccio di ferro, eh? Già, già, in fondo non è altro che un gioco. D'accordo. Sono pronto, e tu testa pelata? Che cosa? Ti spezzerò i bracci in quattro e quattro otto, gradasso. Vedi, i miei muscoli sviluppano il doppio della forza di quelli normali, perché è stato stimolato un nervo segreto. Toccavi. Bene. Ora vedremo quanta resistenza riuscirai ad opporre. Pronti? Prima. E' anche piu' facile di quanto credessi. E' presto per cantar vittoria. Che cosa? Adesso tocca a me. Reagisci, sei piu' forte? Non ce la faccio, piu' di cosi' non ce la faccio. Coraggio, dai! Dai! Dai, forza, Giucchi, non puoi perdere! La prossima volta non sottovalutare il tuo avversario. E' anche piu' di cosi' non so. Grazie a tutti.